Questa volta si faranno le cose in grande. Tutto è pronto per la 74esima edizione degli internazionali di tennis, un appuntamento che è stato presentato con orgoglio dai presidenti del CONI e del FIT. Il tennis uscirà finalmente dai confini del Foro Italico. Il 12 maggio il sorteggio dei tabelloni avverrà sotto l'arco di Costantino e poi, due giorni dopo, le stelle del tennis saranno al Colosseo. Segno di una rinnovata relazione con i vertici capitolini, simboleggiata dalla presenza della prima cittadina di Roma, Virginia Raggi. Il sorteggio all'arco di Costantino è un progetto sul quale abbiamo lavorato tanto dal principio, abbiamo lavorato con la federazione, con la sovraintendenza, insomma è andato tutto bene, siamo molto orgogliosi. Un evento che farà bene anche agli altri sport, infatti parte del ricavato verrà ridistribuito. Quando fai una società tra una federazione che non ha scopo di lucro e il CONI che per mission, per statuto, fa questo, automaticamente quello che si riesce a fare, tanto è vero che ogni anno vedete che ci sono, a cominciare da questa palazzina che insomma era ridotta un pochettino in modo diverso, questa sala dove abbiamo presentato qualche anno fa non era così. Su chi scommettere per la vittoria di questa edizione, il presidente del FIT non ha dubbi. Io tifo sempre a Nadal, naturalmente la semifinale di Fognini a Miami mi ha fatto sognare, quindi mantenendo la sicurezza di Nadal sognare non è mai proibito. Poi un consiglio speciale da chi ha reso più volte fiero il suo paese grazie ai successi in questo sport. La prima volta, se è la prima volta, come detto non sa, poi dopo oggi il tennis è diventato molto più faticoso di quanto giocavo io, oggi è molto più fisico che tecnico, quindi io lo definisco lo sport più difficile del mondo, però magari non tutti sono d'accordo, ognuno pensa che il suo è il più difficile, beh è tosto eh. Proprio perché la competizione è molto dura, siamo sicuri che a vincere, anche questa volta, sarà il migliore.